Carissimi amici e amici, amiche in ascolto, in diretta, ben tornati o benvenuti o ben ritrovati sulle frequenze di questa catechesi in onore della Madonna. Siamo nel mese a lei dedicato, per cui parlare di lei è cosa bella, buona, giusta, santa e doverosa, anche perché anche questa sera saremo immersi in un'altra veramente voragine di bellezza, in una lezione di cielo davvero straordinaria, attraverso la risonanza viva dell'esperienza proprio reale di vita vissuta della Madonna, in cui anche questa sera coglieremo un altro aspetto della virtù della speranza. Noi abbiamo visto che fa parte della virtù teologare della speranza, anche sperare da Dio non soltanto la vita eterna, ma anche le grazie necessarie per meritarla, con le buone opere che si vogliono e che si debbano fare. Quindi è proprio della speranza non dubitare che Dio ci darà tutti gli aiuti necessari per fare quello che Lui desidera da noi. Il problema è che molte volte siamo noi a non metterci in condizione di accogliere quello che Dio vorrebbe darci anche perché dubitiamo del suo aiuto, confidiamo nelle nostre forze o pensiamo, ecco, cosa che mai si deve pensare, che Dio ci provi oltremisura, che permetta che siamo tentati, oltremisura, ecco, è la classica espressione di chi dice non ce la faccio più, non ne posso più, è chiaro che queste sono, come dire, ordinariamente espressioni dovute all'umana debolezza, ecco, quindi per carità comprensibili e dentro questo orizzonte scusabili, però se le si va a decodificare bene, ecco, contengo un neanche troppo larvato, se siamo onesti, rimprovero a Dio che sta, insomma, tirando un po' troppo la corda, calcando un po' troppo la mano, ecco, permettendo che stiamo passando un po' troppi guai. Ecco, qui abbiamo un'esperienza bellissima, ripeto, della Madonna, che bisogna andarsela a gustare, come sempre ce la gusteremo, e poi la commenteremo, adesso poi vediamo se è in corso di lettura o dopo la lettura, insomma, dipende anche un pochino dalle disonanze interiori che sentiremo. Allora, leggo il contesto. Per chi ci avesse il testo, per chi avesse l'ebook del padre Roschini, l'ebook del padre Roschini, non voglio fare disponibilità di, come dire, pubblicità, non assolutamente, insomma, ma della Madonna negli scritti di Maria Valtorta, del padre Roschini, è disponibile anche il testo digitalizzato, ecco, chiaramente sul sito del centro editoriale valtortiano, che è quello a cui faccio riferimento. Noi ci troviamo a pagina 114 ora, perché in realtà il testo che maggiormente ci interessa si trova più avanti, ma questa è la prima parte che bisogna rileggerla, perché altrimenti non si comprende bene anche la seconda, perché qui c'è l'introduzione poi a quell'esplua finale che la Madonna, come vedremo, realizza. Sull'ebook si trova a pagina 114, sotto il titolo La profezia di Isaia sulla Vergine Madre dell'Emmanuele, Isaia 7,14. E questa è la sezione degli scritti intitolata Maria nel corso del tempo che la precede. L'introduzione è questa. Maria, mentre Gesù si trovava a Nazareth, in casa di sua madre, in un sabato, durante il terzo anno della sua vita pubblica, dove ci troviamo già abbastanza avanti, fece un accenno aperto alla morte imminente. Maria d'Alfeo, cognata della Madonna, Maria d'Alfeo era la moglie d'Alfeo, cioè la moglie del fratello di San Giuseppe, quindi cognata per parte di San Giuseppe, perché la Madonna era figlia unica. Questa Maria d'Alfeo, di cui parlano anche i Vangeli, era la mamma di due apostoli di Gesù, Giacomo d'Alfeo e Giuda d'Alfeo, detto anche Giuda Taddeo, Giacomo d'Alfeo, primo vescovo di Gerusalemme, detto anche Giacomo il minore, chiamato da San Paolo, appunto, fratello del Signore, tra virgolette, perché non era il fratello, ma era il cugino, anche se cugino per parte di padre adottivo, quindi non è neanche molto corretto dire cugino carnale, perché cugini carnali, essendo la Madonna figlia unica, in senso stretto Gesù non li ha avuti. Ora, Maria d'Alfeo, cognata della Madonna, nell'udire ciò si meraviglia, si spaventa. E qui comincia la citazione testuale degli scritti di Maria Valtorta. Gesù, grida Maria d'Alfeo, sorgendo in piedi spaventata, guardandosi intorno come se temesse di vedere sorgere i dei scidi da dietro le siepi e i tronchi dell'orto. Gesù, ripete guardandolo con pena, e che non conosci forse più le scritture, che tanto ti stupisci di questo che dico, le chiede Gesù. Ma, ma non è possibile, non lo devi permettere, tua madre è salvatrice come me, e sa, ribatte Gesù, guardala e imitala. Maria è infatti austera, regale nel suo pallore che è profondo, e immobile. qui proviamo a rappresentarci un po' la scena, perché certamente è cosa buona farlo. Le mani in grembo strette come in preghiera, il capo alto con lo sguardo fisso nel vuoto. Maria d'Alfeo la guarda, poi si rivolge di nuovo a Gesù, ma non lo devi dire lo stesso questo orrendo futuro. Tu infiggi una spada nel suo cuore. Gesù ribatte, è 32 anni che vi è questa spada. No! Non è possibile! Maria! Sempre così serena! Maria! Chiedilo a lei, se non credi, a ciò che dico, li prende sempre Gesù. E sì che lo chiedo, è vero Maria? Tu sai? E Maria, con voce bianca ma ferma, dice, è vero, egli aveva 40 giorni e mi fu detto da un santo, ma anche prima, quando l'angelo mi disse che rimanendo la Vergine avrei concepito un figlio che per il suo concepimento divino figlio di Dio sarebbe stato detto e tale è realmente, quando questo mi fu detto e che nel seno di Elisabetta sterile era formato un frutto per miracolo dell'Eterno, non ho stentato a ricordare le parole di Isaia. Ecco, la Vergine concepirà, partorirà un figlio che sarà detto l'Emmanuele. Tutto però, tutto Isaia, è là dove parla del precursore, è là dove parla dell'uomo dei dolori, rosso, rosso di sangue, irriconoscibile, un lebroso per i nostri peccati. La spada è in cuore da allora e tutto ha servito a conficarla di più e il cantico degli angeli e le parole di Simeone e la venuta del re d'Oriente e tutto, tutto. Allora, prima di, questo era il prequel del testo che ci interessa, prima di andare a vedere il testo che ci interessa, invito l'ascoltatore a già cogliere alcune cose molto belle della Madonna in questo prequel. Sì, tutta la sua coscienza perfettissima dei dolori del figlio e quindi del suo coinvolgimento terribile nell'opera della redenzione. Attenzione però, la cui conoscenza Maria attesta in questo brano, proprio in un'ultima parte che abbiamo letto, essere venuta non per rivelazione divina, non perché Gesù le ha detto tutto quanto, ma per parola profetica, il santo dei 40 giorni è Simeone, no? Che le disse nell'episodio della presentazione del Tempio, egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione perché siano sverati i segreti di molti cuori e anche a te una spada trafiggerà l'anima. Quindi questa era la parola di un santo, quindi non era una cosa che gli aveva detto in estasi nostro Signore. Ma Maria va oltre, dice, prima che accadesse questo episodio c'era stata l'annunciazione molto tempo prima perché l'annunciazione sono 40 giorni più 9 mesi di gestazione, quindi si parla di 10 mesi prima e qui emerge anche la grandezza di Maria Santissima come donna di vera fede, come donna israelitica perfetta, ma oggi sarebbe stata la cristiana qui interroga tutti noi, capito, qui interroga tutti noi, dice, quando l'angelo mi ha detto tu diventerai madre, la prima cosa che mi è venuta in mente è stata la profezia di Isaia, quella che appunto titola questo capito, no? Ecco, la Vergine non cebirà e partorirà il figlio e sarà chiamata Emanuele che significa Dio con noi questa è Isaia 714. però la Madonna dice attenzione Anne la Vergine concepirà e chi le andrà davanti al Messia il precursore come sono belli i suoi monti i piedi del messaggero consolate consolate il mio popolo una voce grida preparate la via del Signore questo è Isaia e poi chi è costui che viene da Edom chi è costui che avanza tinto di rosso splendido nella veste nel pino pigiato io da solo calpestato l'ira il vino furioso dell'ira di Dio onnipotente questo è Isaia non apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi non splendore per provare lui di letto questo è il quarto canto del servo di Yahweh come uno dinanzi a quale ci si copre la faccia tanto era sfigurato per essere l'uomo in sospetto e diversa la sua formale figli dell'uomo quindi la Madonna ha capito non perché l'angelo l'angelo che ha detto sarebbe diventato la madre del figlio di Dio basta ma la sua conoscenza biblica la sua fede dobbiamo dire gli ha immediatamente aperto gli orizzonti allora capiamo cioè questo è quello che questo cioè le anime mariane non nel mese di maggio per esempio le anime mariane che fanno non leggono mai il vangelo cioè non pensiamo che essere anima mariana dico tanti rosari e faccio la consagrazione al cuore immacolato di Maria ah sì va bene ma un'anima mariana il vangelo lo conosce bene che vuole essere mariana si vuole vivere come la Madonna il catechismo della chiesa cattolica lo conosce bene o se non lo conosce bene questo è proprio una una spia di una vera devozione una Madonna comincia a istruirsi già chi sta seguendo questa questa catechesi in diretta o in differita ovviamente non sono per 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 voi queste queste parole perché già che state seguendo una catechesi in diretta o in differita quindi dedicando del tempo alla formazione della vostra anima questa è solo una tra le tante catechesi ce ne sono una montagna no? vuol dire che già state messi sulla strada buona continuiamo tutti quanti no? ma la trascuratezza della propria istruzione religiosa la propria formazione religiosa è una colpa è vero che molte cose cioè moltissima gente si trova in tanti guai magari commette dei peccati anche molto molto gravi perché non lo sa non ne è cosciente però ecco anche anche per chi cioè la mancata cura della propria formazione religiosa di fede religiosa termine un po' cioè è colpa è un peccato d'omissione capite? perché se tu sei rimasto con una conoscenza religiosa minimale che rasenta quasi l'ignoranza o l'analfabetismo religioso e questo non le dichiara responsabilità cioè chiaramente la chiesa ti dice ti dà una istruzione obbligatoria un po' come la scuola dell'obbligo no? per i sacramenti dell'iniziazione cristiana giusto per fare la comunione alla cresima che molta gente li fa controvoglia ma qui la scuola dell'obbligo poi c'è liceo poi c'è l'università poi c'è i dottorati insomma no? non sta scritto da nessuna parte né c'è nessun comandamento mi sembra che dica rimani al catechismo della prima comunione della cresima perché basta e avanza affatto quindi la cura della propria formazione religiosa è atto mariano per antonomasia cioè un'anima devota alla madonna su questo è esemplare quindi non 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 c'è nessun dubbio ecco quindi la madonna è la donna assolutamente di fede prima ancora che di speranza e di fede biblica proprio radicata nella sacra scrittura ora andiamo a vedere il seguito di questo brano questa è un po' ripeto una premessa e la madonna è conclusa dicendo è tutto tutto ha contribuito a come dire a infilare questa 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 spada no? quindi a com'è il proverbio a a rigirare la spada nella piaga no? allora Maria d'Arfeo ribatte ma qual è altro tutto Maria? Gesù trionfa Gesù fa prodigi Gesù è seguito da turbe sempre più numerose non è forse vero? e Maria sempre in quella postura quella che abbiamo visto prima bellissima immaginarsela in questo modo se potessi esprimere un sogno quanto mi piacerebbe vedere questa scena vabbè comunque Maria sempre in quella postura dice ad ogni domanda sì 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 senza affanno senza gioia soltanto un assentire pagato perché così è quindi Gesù trionfa? sì Gesù fa prodigi? sì Gesù è seguito da turbe sempre più numerose? sì e allora quale altro tutto ti conficca la spada in cuore? chiede sempre Maria D'Alfeo o tutto risponde Maria e così calma sei attenzione stiamo raggiungendo proprio il punto fondamentale e così calma sei così serena sempre uguale a quando giungesti qui sposa 33 anni fa e mi pare ieri tanto ricordo ma come puoi io io sarei come pazza io farei non so che farei io ma no non è possibile che una madre sappia questo e stia calma noi che pensiamo e qui bisogna sentire la risposta di Maria prima di essere madre sono figlia e serva di Dio la mia calma dove la trovo nel fare la volontà di Dio la mia serenità da dove da che mi viene dal fare questa volontà se dovessi fare la volontà di un uomo potrei essere turbata perché un uomo anche il più saggio può sempre imporre volontà errate ma quella di Dio se egli mi ha voluta per madre del suo Cristo devo pensare che ciò è crudele e in questo pensiero perdere la mia serenità facciamo così taggiamo tutto e poi ci torniamo perché qui ogni frase pesa parecchio il pensiero che ciò che sarà la redenzione per lui e per me anche per me deve turbarmi col pensiero di come farò a superare quell'ora oh sarà tremenda e Maria ha un involontario sussurto come un brivido improvviso e serla le mani come per impedir loro di tremare come per orare più ardentemente mentre il volto le si fa ancora più bianco e le palpebre lievi si abbassano in uno sbattimento d'angoscia sui dolci occhi cerulei ma ella rafferma la voce dopo un profondo sospiro di affanno e termina ma egli colui che mi ha imposto la sua volontà e che io servo con amore fiducioso mi darà gli aiuti per quell'ora a me e a lui perché non può il padre dare volontà troppo forti per le forze dell'uomo e soccorre sempre e ci soccorrerà figlio mio ci soccorrerà egli ci soccorrerà e non ci potrà essere che lui infinito nei mezzi a soccorrerci sì madre risponde Gesù l'amore ci soccorrerà e nell'amore ci soccorreremo a vicenda e nell'amore redimeremo Gesù si è messo a lato di sua madre e le posa la mano sulla spalla e lei alza il viso a guardarlo il suo bello e sano Gesù destinato ad essere sfigurato dalle torture ucciso con mille ferite e dice nell'amore e nel dolore sì è insieme nessuno parla più in cerchio intorno ai due protagonisti principali della futura tragedia del Golgotha apostole e discepoli sembrano statue pensose aure è pietrificata sul suo sgabelletto ma si riscuote per prima e senza alzarsi in piedi scivola i ginocchi e si trova perciò contro a Maria e abbraccia le ginocchi e le curva la testa sul grembo dicendo anche per me è tutto questo quanto costo e quanto vi amo per ciò che vi costo oh madre del mio Dio benedicimi perché io non vi costi senza frutto sì figlia mia risponde la Vergine non temere Dio aiuterà anche te se tu accetterai sempre la sua volontà ora adesso qui sarebbe da farci mezzanotte sono le 22 perché sta in diretta insomma abbiamo sì o no con altre invece ventina di minuti perché non si vuole appesantire però qualche cosa ce la diciamo come condivisione gioiosa e fraterna io la dico anzitutto a me ecco dinanzi a questi spettacoli non ci sono maestri la Madonna è la discepola perfettissima dell'unico maestro e quindi ne riproduce perfettamente i lineamenti quindi è è l'unica che può stare in cattedra quando si muovono Gesù e Maria e tutte quante le cattedre anche ecclesiastiche comprese delle più alte gerarchie diventano banchi discolari dove anzitutto si apprende e certamente poi chi ha il compito di insegnare deve semplicemente prendere e restituire esattamente quello che ha preso questo ricordiamo sempre che come ha detto Gesù nel Vangelo uno è il maestro una potremmo dire è la maestra gli altri sono tutti discepoli e sono maestri credibili udibili attendibili e da ascoltare tanto quanto solo in quanto se e in quanto riproducono ma per questo esiste la Chiesa Cattolica e il suo magistero l'insegnamento dell'unico maestro e dell'unica maestra e basta cosa che è dovere gravissimo anche dei poveri preti come me ecco che possono parlare a nome della Chiesa pur non avendo in senso stretto potestà di magistero perché la potestà di magistero contiene a chi ha la pienezza dell'ordine sacro cioè al vescovo non al sacerdote sacerdote semplice diciamo così ora qui contempliamo questa scena il contesto è evidente Maria ha affermato la sua conoscenza da sempre delle sorti del figlio e della sua questa sua parente gli prende un mezzo colpo dice come hai fatto a rimanere io ti ho sempre visto calma serena tranquilla attenzione calma serena tranquilla con la conoscenza certa di un futuro che così sarà facciamo un esempio e non facciamo gesti apotropaici per favore quindi gli esempi si fanno per parlare se ci venisse qualcuno a dire guarda che tra 4-5 anni ti verrà un tumore bello di quelli proprio come Dio comanda che ti farà stare male ma tanto male però questa è la volontà di Dio tu cominci a prepararti a rassegnarti perché Dio ti chiede di aiutarlo con l'apostolato della sofferenza a salvare la Chiesa e il mondo che facciamo? e noi dobbiamo farcene che facciamo? accettiamo o non accettiamo numero uno e quando anche accettassimo da oggi a quando mi viene il tumore come sto? sto facendo un esempio un pochino provocatorio un pochino forte no? però certamente è meno tremendo di quello che hanno passato Gesù e Maria sul Calvario nel frattempo come sto? la Madonna si vede la sua sofferenza pallida diventa sempre più pallida gli trema la mano la deve fermare no? quindi non è la creatura cioè le persone di fede e di speranza non sono fuori del mondo fanatici capito? dice ah che devo andare a morire e che problema c'è? no il problema c'è e come il problema è grosso ma nella coscienza del problema grosso che quindi io interiorizzo e vivo come deve essere vissuto come una tragedia c'è anche la sicurezza ecco la la speranza la speranza è una roccia che ci fa stare saldi non è che dici beh speriamo che Dio mi darà una mano chi lo sa questa non è la speranza la speranza è certamente Dio mi darà una mano perché questa è la sua volontà e se impone attenzione impone non significa che tu sei obbligato a riceverla perché poi le sue volontà la Madonna avrebbe tranquillamente potuto sottrarsi a questo avrebbe potuto dire di no come avrebbe potuto dire di no al momento della dell'annunciazione quindi cioè le volontà di Dio cioè specialmente questa cioè Gesù come diciamo in una preghiera eucaristica sulla croce si è andato offrendosi liberamente la sua passione ha detto chiaramente nel discorso di Dio a me la vita non me la toglie nessuno sono io che la offro perché ho il potere di offrirla e di riprenderla di nuovo quando andarono le guardie a prendere Gesù la nota San Giovanni alla prima risposta sono io che adderò tutte quante tramortite a terra e con quello era la dimostrazione da parte di Gesù che se avesse voluto rifuginava tutti quanti e non si sarebbe fatto catturare ma sapendo che quella era la volontà del padre per la nostra salvezza e avendo visto che era giunta l'ora perché le guardie erano arrivate dopo aver dimostrato guardate che non siete voi che mi catturate ma sono io che mi lascio catturare si è consegnato è molto diverso da dove viene la calma di Maria dalla coscienza che sta facendo la volontà di Dio e dice ma come non ti ribelli una donna a cui viene sottratto un figlio non è possibile che una madre che faccia questo sia calma dove la trovi bellissima risposta della madonna mi pensi per esempio molto anche chi è madre o chi è padre cioè chi mi conosce sa bene l'ho pubblicato anche recentemente l'ho raccontato mille mille volte insomma il mio essere sacerdote è figlio diretto di una tragedia tragedia che mi ha proprio spinto per come l'ha vissuta il diretto interessato a dire io darò la mia vita perché avere la fede in Gesù significa essere capace di vivere una tragedia di questo genere in maniera interessata recentemente questo vecchio MP3 di qualche anno è stato diciamo così condiviso anche su YouTube si chiama Testimonianza su Gesù Risorto e la passione e la morte prematurissima del mio più caro amico quando lui aveva 23 anni e io 22 e lontano ormai 1993 io ho visto come sta una madre orbata cioè una madre privata di un figlio giovanissimo di per sé questa cosa qui è una cosa bruttissima può anche essere percepita dal diretto interessato come un'ingiustizia cosa dice la Madonna questo vale anche per tutte le madri che ricevono questa tremenda prova prima di essere madre sono figlia e serva di Dio quindi pensiamo a tutte quante le recriminazioni che noi possiamo possiamo fare insomma su tante questioni no? prima di essere madre sono figlia e serva di Dio la speranza cioè la Madonna faceva tutto questo perché la speranza ci proietta anche cioè non è la stessa cosa cioè quello che ha fatto la Madonna è quello che ha fatto nostro Signore Gesù Cristo cioè ce lo dice vino alla Kenosi di San Paolo si è fatto obbediente fino alla morte alla morte di Croce per questo Dio l'ha esaltato cioè l'umanità santissima di Gesù questo sia chiaro questo qui e questa è teologia cattolica allo stato puro cioè è stata così tanto esaltata adesso la stiamo contemplando nel tempo di Pasqua il tempo di Pasqua cummina nell'ascensione dove la natura di Gesù è intronizzata esaltata al di sopra di tutto attratta dentro la vita della Santissima Trinità coronata di gloria Gesù è stato giudice dei morti ma sapete perché? non per il fatto che è Dio il fatto che è Dio cioè non c'è bisogno ma per come da uomo ha obbedito fino alla morte la morte di Croce cioè l'esaltazione di nostro Signore Gesù Cristo è conquista della sua umanità eh attenzione quindi è conseguenza immediata e diretta della perfezione assolutissima con cui nella sua natura umana ha compiuto la volontà del padre la Madonna è esaltata al di sopra degli angeli e dei santi e fa più lei che tutto il paradiso messo insieme come contempliamo nel quinto mistero glorioso del Santo Rosario perché? perché nessuno come lei ha fatto così bene quello che Dio vuole quello che Dio vuole noi dobbiamo accettarlo o rifiutarlo e una volta che lo abbiamo accettato non dubitare primo che il Signore ci aiuterà e non pensare mai mai che il padre possa dare notizioni testualmente la Madonna volontà troppo forti per le forze dell'uomo perché se a quella mamma del mio caro amico le ha chiesto questo grande sacrificio è quella mamma di questo grande amico ha avuto tutti quanti gli aiuti dal cielo per non morire di dolore e per affrontare questa prova le cui conseguenze e benedizioni alcune si sono viste qui altre le vedrà in cielo la mamma di questo mio caro amico una volta perché dopo capì tra il serio e il faceto mi disse beh certo però mi dovrei fare una gacchierata col padre eterno che sia una cosa del genere perché mica mi è stato tanto bene che per far diventare prete te e frate con l'altro nostro amico sei dovuto prendere mio figlio perché qualcosa l'aveva capito questo sono soltanto alcuni degli effetti positivi di quella terribile sofferenza ben accettata io ne ho visti molti altri durante quel periodo drammatico ma proprio nell'essere drammatico bellissimo dolorosissimo ma bellissimo formativissimo indimenticabile la Madonna non ha avuto attenzione Dio non può imporre né volontà troppo grandi e né volontà errate la volontà degli uomini erra ma la volontà di Dio no e quanti ma quanti ma quanti ma quanti quanti tra i comuni mortali passano il tempo a sciorinare lamenti continui contro il cielo come se Dio fosse uno che non capisce niente e che non ne combina una dritta pensiamoci questo non è un atteggiamento da né da figli di Dio né da uomini e donne di speranza Dio non impone volontà errate né volontà troppo forti per le forze dell'uomo e Dio dà sempre 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 gli aiuti e le grazie necessarie per fare quello che lui vuole a chi vuole farlo questo vuole per tutte le situazioni di vita io sono prete Dio mi darà tutte le grazie necessarie per essere un santo prete se mi dispongo a raccoglierlo per superare tutte le difficoltà tutte le sofferenze tutte le prove tutte le tribolazioni che possono uscire a un prete stessa cosa vale cioè tutti quanti tutti quanti i nostri matrimoni moderni che vanno che saltano per aria evidente che oltre a tante altre cose c'è proprio un gap per quanto riguarda la virtù della speranza per il momento in cui tu ti sposi uno dei miei rettori ne ho avuti due io di seminario amava a dire questa cosa fino al giorno prima dell'ordinazione per aver fatto tutte quante le tappe propedeutiche che vuoi la missione agli ordini sacri il lettorato l'accolita pure il diagonato d'accordo fino al giorno prima dell'ordinazione dell'ordinazione tu puoi ancora dire ma sarà volontà di Dio ma dal giorno dell'ordinazione in poi questo capitolo è chiuso è volontà di Dio che tu sia prete e che faccia il prete quindi toglieli dalla testa qualunque altra cosa e impegnati in questo e difendi anche questo e resisti anche in questo per due persone che si sposano si può dire esattamente la stessa cosa dal giorno del matrimonio in poi fino al giorno prima io ho conosciuto il matrimonio che sono saltato il giorno stesso che non si sono presentati uno dei due all'altare quindi tutto può essere possibile ma da quando esci da quella benedetta chiesa dimenticati di qualunque altra cosa è volontà di Dio che tu con quella persona sii e rimani una cosa sola attenzione qualunque cosa accada qualunque cosa accada non che alla prima difficoltà vado a cercare con consolazioni conforti soddisfazioni o dall'avvocato e faccio la separazione e il divorzio adesso rapido come qualche sciagurata legge ulteriormente nefasta ha recentemente introdotto questa non è la volontà di Dio questa è la volontà degli uomini non è la volontà di Dio la volontà di Dio è non osi separare l'uomo ciò che Dio unisce ah ma come è qui il matrimonio è andato male ci sono incomprensioni ci sono la vita impossibile ci sono le violenze io sono l'educe sabato scorso da uno dall'ennesimo per l'irinaggio a Cascia andiamola a chiedere a Santa Rita insomma che significa essere donne di speranza con un matrimonio non difficile di più più che difficile andiamogliela a chiedere Santa Rita è rimasta al posto suo soffrendo non è una legittimazione dell'ingiustizia questo qui non assolutamente questa è una legittimazione del Vangelo perché noi predichiamo dice San Paolo Cristo è Cristo crocifisso è Cristo crocifisso ha detto che chi vuol venire dietro di me rinnevi se stesso prende la sua croce ogni giorno e mi segua l'ha detto lui non chi vuol venire non chi viene chi vuol venire dietro di me pensi a se stesso quindi si preoccupi di se stesso butti la croce e segua la sua volontà umana ma questo lo fanno un sacco di gente compresi i fedeli cattolici cioè rinnegare se stesso è il contrario dell'egoismo del pensare a se stessi d'accordo San Pietro ha rinnegato il nostro Signore Gesù Cristo per salvare la propria vita perché se l'avesse riconosciuto c'è la paura ma restano pure a me ma ammazzano pure a me perché sono suoi scefoli ma Gesù cosa dice nel Vangelo chi vorrà salvare la propria vita la perderà chi perderà la propria vita per causa mia del Vangelo la troverà noi non possiamo anacquare il Vangelo non possiamo dimenticarci del Vangelo non possiamo fare finta che il Vangelo non esiste d'accordo o dire vabbè che te vabbè la Madonna l'abbiamo sentito benissimo sentiva benissimo conosceva benissimo la sagra scrittura e trovandosi coinvolta in essa il ruolo da protagonista anche se lei se lo sarebbe ben risparmiato perché la Madonna è la starring anzi la co-starring direbbero ma lei non si è tirata indietro e non è che non avesse in un certo senso paura stava tremando ma calma serena e tranquilla non pensandoci troppo non pensandoci il giusto sempre nella consapevolezza che Dio avrebbe dato gli aiuti per quell'ora allora al termine di questa catechesi che adesso la chiudiamo queste cose dobbiamo chiedercele dobbiamo chiedercele le domande da farsi non sono tante uno io non ho la vita che voglio fare perché guardate che la nostra libertà non ce la tocca nessuno meno che mai domini Dio è e l'alternativa fondamentale proprio il bivio discriminante è faccio quello che mi pare motto del fondatore del satanismo contemporaneo come ho detto infinite volte o faccio quello che Dio vuole faccio la mia volontà o faccio la sua umana volontà campo di umana volontà o campo di divina volontà punto se scelgo la seconda alla volontà di Dio si fa tutta bene sempre dovunque comunque e qualunque già averci paura dice no è una volontà e se io mi abbandono presenta la volontà di Dio poi chi lo sa che mi chiede già averci paura è già un atto molto brutto nei confronti dell'altissimo perché Dio non cioè non dobbiamo toglierci dalla testa una cosa che Dio ti voglia togliere qualcosa Dio ti voglia complicare la vita ah se mi abbandono lui poi chi lo sa che succede ma che diciamo qualunque cosa accada fosse anche la più drammatica è bene per te è bene per te quando non c'è questa disposizione interiore cioè tutta la nostra vita scricchiola cioè diciamolo anche in un altro termine sapete quante volte a un prete vanno a chiedere ma mi dia padre un consiglio su questo 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 e quest'altro io molte volte il discorso che faccio è di una semplicità estrema guarda tu devi risolvere un problema di fondo a tu che vuoi fare qual è il tuo orizzonte di vita tu vivi una vita terrena o vivi una vita celeste vuoi fare la tua volontà o fare la volontà di Dio questo Gesù su questo non si transige perché soltanto dentro questo campo di orizzonte tu mi dici sono un maschiotto e ho la fidanzata benissimo lo so che vuoi vado in questo fidanzamento tu mi devi spiegare soltanto questo qua che cosa vuoi fare vuoi fare come te pare vuoi fare quello che Dio vuole voglio fare quello che Dio vuole quello che Dio vuole è e si può fare anche oggi ci sono tutti gli aiuti possibili immagini la figura del nostro Signore non tenete a tutti bisogna vedere quello che vuoi fare perché nessuno pecca contro la propria volontà tu pecchi se vuoi peccare e pecchi se non vuoi fare quello che Dio vuole a voglia di ma io proprio la vado a messa si può una messa quanto devi fare ma non c'è solo la messa nella divina volontà c'è tutto è chiaro che se tu stai dentro questo orizzonte e sei fermamente radicale in questo orizzonte se c'è da rinnegare te stesso in questa cosa cioè da andare contro quello che vorresti fare quelli che sono i tuoi desideri immediati quelle che sono le tue voglie con fatica ma avendo da Dio tutti gli aiuti possibili immaginabili lo farai io ce la potrei scrivere un libro anche ragazzi che dicono facciamo sta cosa però ce la faremo ci aiuterà nostro signore ma figura se non ti aiuta nostro signore ma ti aiuta e come d'accordo e come prova a voler fare una cosa del genere anche oggi anche oggi anche oggi nonostante che tutti gli amici ti prendono in giro anche oggi che c'è tutto il mondo contro messaggi cioè rideranno dietro le tutto succede ma il signore ti aiuta se vuoi fare la sua volontà è chiaro che se tu esci da questo campo quando noi usciamo dal campo del fare la volontà di Dio vuoi fare come mi pare il nostro signore che cosa fa figlio mio mi dispiace per te buon viaggio accomodati poi però attenzione poi non ti devi piagni però io queste cose non le posso mai dire le dico durante le catechesi perché poi quando ti capita un poveraccio che ha sbattuto la testa è evidente che tu per tu lo devi consolare però in generale dice io ti dico se vuoi fare quello che vuoi accomodati può però non piagne di tutte quante le conseguenze negative che dal male ti cadranno sulla testa e che ti cadranno sulla testa tutte che pedagogicamente in maniera se è opportuna il nostro signore ti lascia fare quello che vuoi ma se hai combinato qualche guaio tu gli chiedi di perdono poi ti perdona ecco perché il senso della penitenza cristiana le conseguenze dei guai le devi assumere tu e le devi poi riparare questo è è evidente allora la grande scelta al termine di questa catechesi io voglio fare la volontà di Dio uno ha queste condizioni però eh con Dio non si può dire io voglio fare la tua volontà purché combaci perfettamente con la mia se no no purché non mi chieda questo questi discorsi non si possono fare se uno vuole farla realmente detto questo tu sei fermamente convinto che qualunque cosa la volontà di Dio disponga è bene per te punto interrogativo queste sono tutte quante domande relative alla virtù teologale della speranza terzo punto sei fermamente convinto senza nessun dubbio e qualunque che sarà la volontà di Dio per te a cui tu ti apri incondizionatamente Dio ti darà tutti gli aiuti i mezzi e le grazie necessarie per poterla compiere e compiere alla grande punto interrogativo di tutte queste cose ovviamente la Madonna le ha vissute e le risposte che ha dato sono quelle che abbiamo ascoltato in questo modo anche commovente a tratti ecco mai dubitare degli aiuti che vengono dal Signore mai dubitare che le sue volontà siano troppo pesanti mai ancora di più dubitare che qualcuna delle sue volontà sia errata questa è la speranza capite la vita cristiana è fondata sulle tre virtù teologali la fede l'abbiamo vista la speranza la stiamo vedendo la vedremo anche la prossima volta e poi c'è la carità queste sono proprio rocce d'accordo chi sta ben saldo su queste virtù ok bene ci possiamo salutare e dare appuntamento per chi crede alla prossima puntata del ciclo di catechesi sulle virtù teologali della Madonna santa buona sera notte a tutti con la mia benedizione alla prossima Ave Maria